Buongiorno a tutti, questo è un progetto pilota sperimentale promosso dall'Automobile Cloud di Milano in collaborazione con Regione Lombardia, con Inail Lombardia e con Assogomma per cercare di ridurre il numero degli incidenti cosiddetti in itinere, cioè quegli incidenti legati agli spostamenti casa-lavoro o lavoro-lavoro che apparentemente sono relativamente pochi ma in realtà sono un numero molto elevato, rappresentano quasi il 50% di tutti gli incidenti stradali che avvengono nella nostra regione Lombardia e in generale nel paese Italia. Gli incidenti stradali in Italia come in Europa rappresentano un danno enorme, ogni anno in Italia avvengono circa 300.000 incidenti, più di 200.000 feriti devono andare al pronto soccorso, 5.500, 5.600 sono i decessi lungo le nostre strade. Il danno è enorme, le conseguenze sono altrettanto enormi dal punto di vista economico e dal punto di vista umano, le iniziative per ridurre questo numero sono possibili e noi cerchiamo di realizzarle con questo progetto. Ben pochi sanno che le strade più pericolose non sono le autostrade ma sono le strade urbane, le strade extraurbane. Qui avviene il 60-70% degli incidenti, qui avviene il 40% dei decessi. In autostrada alle velocità molto più elevate avviene non più del 10% degli incidenti. È chiaro che questi vanno sul giornale, mentre invece gli incidenti che avvengono sulle nostre strade, soprattutto la sera e soprattutto di notte, non vanno sui giornali e rientrano nella normalità del dolore delle famiglie. Le vetture hanno tecnologie sempre più avanzate, sempre più fantastiche. Le strade sono molto migliorate rispetto a parecchi anni fa. C'è bisogno quindi di una maggiore consapevolezza da parte dei guidatori delle due e delle quattro ruote per essere pronti a eventuali rischi che possono avvenire in ambito urbano ed extraurbano. L'uomo quindi, il guidatore, è al centro dell'attenzione. Faccio solo un esempio, la vista. Di notte ben pochi sappiamo che in autostrada, soprattutto in ambito extraurbano, noi perdiamo una diotria e mezzo, una diotria virgola 6. Non ce ne rendiamo conto perché la perdita è graduale e quindi ci sembra del tutto normale. Ma le nostre capacità visive sono diminuite. È bene saperlo ed è bene fare un controllo con l'ottico sotto casa per poter evitare questi rischi pericolosi. Un altro esempio molto interessante, di cui in questi ultimi periodi se ne parla, è l'alcol. Allora, ben pochi sanno che il limite di 0,5 vuol dire che una persona di sesso maschile, di corporatura media sana, con una lattina di birra, quasi raggiunge il 0,05. E una persona di sesso femminile lo raggiunge certamente per una diversa composizione di liquidi organici all'interno del corpo. I pneumatici sono un elemento molto importante nella prevenzione degli incidenti. Il pneumatico nasce con una scolpitura, quando è nuovo, del veicolo attorno a 9 mm. Si prende la multa quando è sceso sotto 1,6. Non c'è dubbio che quando ha 1,7, 1,8, 1,9 mm è ancora dentro la norma, ma siamo a rischio per noi e per la nostra famiglia. È bene quindi stare attenti e fare periodici controlli. Un altro aspetto che va tenuto presente è il fatto che il pneumatico debba essere omologato. Lo si riscontra molto facilmente guardando nel pneumatico sul dorso. Ci deve essere una E in sovraimpressione, seguita da un numero e circoscritta o da un cerchio o da un quadratino. Senza questa E il pneumatico non è regolare e nel caso dell'incidente l'assicurazione può non pagare i danni. Con queste informazioni messe a disposizione degli studenti e dei dipendenti delle aziende e delle imprese, noi speriamo di poter contribuire a ridurre il numero degli incidenti. Lo spero la Regione Lombardia, l'INA, il Lassogomma, l'Automobile Club di Milano e spero che lo speriate anche voi tutti studenti.